Una partita da vincere a tutti i costi per ritrovare fiducia, serenità, consapevolezza dei propri mezzi, minata dopo le due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato. La Paffoni domani se la vedrà nella derby con la Cipira Borgo Manero e per i nostalgici la Paladon Bosch riporta alla mente i derby negli anni 2005-2006, campionato di Serie B2, poi vinto dai Rosso Verdi. Non abbiamo iniziato la stagione come avremmo voluto, inutile negarlo, le due sconfitte nelle prime tre giornate soprattutto, in termini di proporzione non ce le aspettavamo, ma non possiamo piangerci addosso, non è nel nostro DNA, dobbiamo metterci alle spalle questi risultati, le parole del direttore sportivo della Fugor Filippo Fanchini, e vincere questa partita che per noi, per l'ambiente e per la classifica diventa davvero fondamentale. Affrontiamo una squadra atipica e particolare che ha grande atletismo e giovani in rampa di lancio. Dovremmo essere bravi nel non dargli entusiasmo e fiducia perché altrimenti le cose si complicherebbero. Ho visto la squadra motivata, consapevole che non possiamo più sbagliare. Mi aspetto una prestazione in linea con le attese di tutti. So che anche domani a Borgo Manero ci saranno tanti tifosi a seguito. Le ringrazio pubblicamente per il sostegno che ci stanno dando e assicuro loro che arriveranno le giuste soddisfazioni, conclude Fanchini. La partita di domani, come anticipato nei giorni scorsi, sarà a porte aperte, palla 2 alle ore 17. Per quanto riguarda la Mami, la squadra di Coccia e Nava affronta una delle trasferte più complicate di tutto e da Girone giocheranno i biancorossi. Infatti al palla Basletta contro Vigevano prima in classifica, ma già lo scorso anno gli Saks hanno fatto uno scherzetto ai Ducali. E chissà che con la tranquillità derivata dalle due vittorie nelle prime tre giornate di campionato, non possa arrivare un altro colpaccio.